Gentile collega, un altro caso possiamo dire di distruzione della struttura toraco-addominale che potremmo tanto chiamare patologia di Cantrell, che potremmo tanto chiamare ectopia cordis, che potremmo tanto chiamare gastroschisi, che potremmo chiamare tanto patologia legata a una rottura precoce dell'amnios. Questo perché? Perché tu non vedi chiaramente un celoma extreembrionario e quindi ci troviamo in un'epoca molto iniziale, siamo a 11 settimane, per cui dobbiamo necessariamente essere cauti nell'inquadrare come una vera e propria pentalogia di Cantrell il caso, ma senza dubbio ci sta l'ectopia cordis, ma senza dubbio ci sta la gastroschisi, ma senza dubbio ci sta il fegato che sta in addome. Il feto si muove, e questo lascerebbe intendere che non sia una rottura precoce dell'amnios, ma solo in un'epoca successiva, in cui noi possiamo andare a vedere se ci sta una media, potremmo dare un valore maggiore a questa ipotesi. Certo è che gli arti sono appena abbozzati e quindi l'ipotesi che ci possa essere stata anche un'amputazione di strutture degli arti delle ossa lunghe è verosimile. Vediamo una struttura pelvica transonica che dovrebbe essere riportata alla vescica, ma naturalmente per l'epoca così bassa potrebbe essere anche altro. Deve essere fatta una descrittiva, deve essere detto che anche l'utilizzo di un cariotipo darebbe poche informazioni, bisogna scrivere che la patologia è letale, chiedere la consulenza dal genetista e eventualmente è del chirurgo pediatra il quale confermerà che la patologia è incompatibile con la vita e non è possibile nessuna ricostruzione del caso. La colonna vertebrale, quasi sempre in questi casi, presenta una severa scoliosi. Noi non possiamo valutarla perché è ovviamente estremamente iniziale. Vedrai che viene fatta una visurazione della nuca, non la possiamo dire una precisa traslucenza perché la posizione non era quella ideale, ma è estremamente sottile per cui non ha molta importanza. Vedi il sacco vitellino ma non vedi il celoma extrempionario. Quindi il messaggio da portare a casa qual è? Che oramai con il perfezionarsi dell'ecografia si riescono a fare nel primo trimestre molte diagnosi di queste patologie, che quando le vedi devi segnalare che sono incompatibili con la vita, devi consigliare le consulenze che ti ho detto e devi tenere presente che il rischio di ripetibilità è molto basso, ma di tutto questo deve essere informata la gestante che poi deciderà sul da fare, tenendo presente che nei primi 90 giorni la pratica per interrompere la gravidanza è molto più semplice. Grazie, grazie, grazie dell'attenzione. Vedi anche dei movimenti fetali, ma questo non vuol significare nulla sulla rottura o meno dell'amnus, in questa epoca, mentre successivamente si può avere quello che si chiama lo stucfetus, adesso alla parete. Grazie. 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 Grazie.